Buongiorno signorina. Buongiorno signore. Oggi come sta? Bellissimo, grazie. Questo film è unico. Sono belli, eh? E loro chi sono? Non conosce questi attori. Guardi, ho qui anche le loro foto. Loro sono Sofia Loren e Marcello Mastroianni, due grandi attori del cinema italiano. Matrimonio all'italiana. Allora il film parla d'amore. Molti film del regista De Sica parlano d'amore. Ma è una storia triste. Gioia e tristezza stanno sempre insieme come nella vita. Ecco la storia. Lei, Sofia Loren, è una donna bellissima e molto intelligente. Si chiama Filumena e vuole sposare lui, il grande Marcello Mastroianni. Ma lui non vuole, non si decide. Allora non stanno insieme? Beh, sì e no. Ma allora? Beh, lui non vuole sposare lei, anche se è innamorato. Poi c'è la madre di lui, ci sono i tre figli di lei. Sono confusa, non capisco. È normale. Parliamo di un film pieno di sentimenti veri. Si piange e si ride. Ma alla fine parlano di matrimonio? Sì. Sì, certo. Alla fine si sposano. Ma noi parliamo troppo. Il film inizia. Ed è così bello, ma così bello che non resisto. Ho deciso. Lo rivedo insieme a lei. Andiamo?